Pace di Cristo Il nostro Signore Gesù Cristo Invita qualcuno a venire alla Casa dell'Eterno Come è scritto in 1 Timotio 2 verso 3 Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati E vengono alla conoscenza della verità Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it E di scaricare l'app Antioca Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church Buon ascolto e Dio vi benedica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.